Buonasera da Molfetta dal Palapoli, appena terminato l'incontro tra la Dai Optical Industri Vitus Basket Molfetta e il Cus Ionico Taranto, gara valevole per la sesta giornata della Conference Sud Girone G del campionato di Palacanesto. Alla mia sinistra il coach della squadra ospite Orlando William, grazie per essere intervenuto ai nostri microfoni. Una sua lettura sulla gara di questa sera dove il Taranto, la sua squadra ha perso per 82 a 60. Penso che il risultato non lo rispecchi pienamente l'andamento della partita, molto probabilmente la partita per chi l'ha vista è stata molto più equilibrata. Abbiamo giocato benissimo i primi due quarti, ho visto una nostra squadra in crescita rispetto alle ultime due prestazioni. Sicuramente vado via dal campo di Molfetta dove sapevamo che è una partita difficile da vincere, comunque con delle buone sensazioni. Come ha detto Pocanzi, una partita giocata bene dalla sua, ovviamente la squadra è ancora ultima in classifica, però a lungo andare sicuramente con questo gioco i punti arriveranno sicuramente. Sì, guarda, noi siamo fiduciosi, continuiamo a lavorare in palestra con l'obiettivo il prima possibile di vincere la prima partita. È una squadra giovane, è una squadra costruita in corsa, è una squadra con tanti giocatori che sono alla loro prima esperienza nella biregionale, interregionale, quindi ci vuole un po' di pazienza, però se le prestazioni sono come quelle di questa sera io penso che si possa comunque sperare bene nelle prossime partite. Ultimissime due domande. Un campionato particolare è quello di quest'anno, tutte possono perdere con chiunque, Vegasi, la squadra della Virtus che ha perso la settimana scorsa in casa contro il Mola, il Monopoli che perde a Benevento, insomma un campionato indecifrabile fino a questo momento. Sì, guarda, fino a questo momento chiaramente ancora le partite sono poche, quindi effettivamente le squadre devono ancora esprimere il loro reale potenziale. Secondo me dopo Natale cominceremo a vedere quali sono realmente le squadre più forti del girone, però ripeto noi facciamo se vogliamo un campionato a parte perché il nostro obiettivo è chiaro, cercare di vincere quelle partite che ci possano permettere di mantenere la categoria, quindi noi guardiamo un po' più in basso e badiamo più che altro a quello che è il nostro percorso e quelli che sono i nostri miglioramenti. Una Taranto che sta vivendo un po' un momento particolare su alcune discipline sportive tipo il calcio e la palacanestro, dall'esterno come sta vivendo la città di Taranto a tutto quello che sta succedendo sia nel calcio che nella palacanestro? Guarda, purtroppo devo dire che siamo abituati perché io ero piccolino quando il Taranto nel calcio faceva la Serie B, non ricordo la Serie B a Taranto da 30 anni e anche nel basket, il questionico ha problematiche relative anche alla ricerca, come un po' tutte le società sportive di Taranto, gli sponsor, gli imprenditori, quindi se mai ci vorrebbe di più che la classe imprenditoriale dasse una mano a queste realtà, le nostre realtà sportive, perché chiaramente senza di loro non si può programmare e non si può fare un'attività a certi livelli, quindi purtroppo noi cittadini di Taranto un po' siamo abituati, sicuramente non ci fa piacere, però speriamo che insomma questa cosa possa cambiare, il trend possa essere diverso il prima possibile. E da Molfetto è tutto, dal Palapoli ringraziamo il coach Orlando William della CUS Ionico Taranto, ricordiamo il finale 82-60 per la squadra locale della Virtus, grazie di tutto.